E' ritornato per il secondo sabato consecutivo aperitivo e cena con shopping, l'iniziativa del centro commerciale naturale Via Tenea e dintorni che attrae grandi e piccini. I negozi delle Via Tenea, Cesare Battisti, Gioieni e Pirandello sabato scorso sono rimasti aperti dalle 18 alle 22 e tra un acquista e l'altro i più piccoli hanno anche potuto assistere a spettacoli di animazione in Piazza Gallo, in Piazzetta Burgatorio e nella parte centrale della Via Tenea. Tra le iniziative anche i momenti culturali, i più grandi hanno anche potuto visitare mostre e musei rimasti aperti fino a tarda ora, come i locali delle fabbriche chiaramontane in Piazza San Francesco e le officine delle arti di Via Celauro. Alcuni negozianti assicurano di aver battuto l'ultimo scontrino alle 23.30 e che lo shopping notturno funziona e consente ai clienti di fare buoni affari anche per il perdurare degli sconti. Adesso l'appuntamento è per mercoledì 10 agosto con la notte di San Lorenzo in Via Tenea e dintorno, i negozi saranno aperti fino a mezzanotte e poi sabato 13 agosto ancora appuntamento con aperitivo e cena con shopping.